Ero di sopra sulla scena del crimine. Lars era di sotto al quarto piano con il sospettato e... Sei tu, Farouk Harris. Lars! Agente a terra. Troverò il colpevole. È raro trovare questi talenti. Lui era amico dei nostri nemici. Perché non fate il lavoro sporco da soli? Noi siamo la CIA, mentre tu sei un uomo solo. E con te non avrei solo un seguccio. Avrei anche un pitbull. Non l'hanno aiutato, l'hanno preso. Potrebbe voler dire che non agiva da solo. Niente è meglio della vendetta. Niente è meglio della vendetta.